Esiste una città in cui parcheggiare l'automobile può costare un residente dai 300 ai 500 euro al mese? È Venezia, nell'unico garage pubblico di Piazzale Roma, mentre la seconda struttura per auto, un garage privato cui il comune ha concesso di raddoppiare la superficie, scelta per ora congelata, ha recentemente annunciato un aumento del 70% degli abbonamenti. Molti non se lo potranno permettere e molti pensano di spostarsi al garage comunale, dove però c'è già la coda di richieste e un bando di assegnazione manca da anni, nonostante il via libera della giunta a Brugnaro sia datato 28 maggio 2019. Dopo quel proclama c'è stato un ulteriore proclama di arrivo del nuovo bando nel 2020, un altro nel corso del 2021, doveva l'ultimo annuncio di novembre essere fatto il bando a dicembre e invece siamo ancora che attendiamo. E anzi ci sembra un po' strano che i numeri, anche nelle dichiarazioni dell'assessore, siano cambiati, perché inizialmente parlava ancora due anni fa di 300 posti, adesso in alcune dichiarazioni parla di 250 posti per i residenti e nell'ultima dice che saranno tra i 200 e i 300 posti, come se non sapesse quanti posti ci sono dopo due anni di annunci all'interno del garage comunale. Assieme al consigliere comunale Alberto Fantuzzo, la capogruppo del Partito Democratico Monica Sambo ha risollevato la questione a Caffersetti, una questione strettamente correlata ad una residenzialità che si sta facendo sempre più difficile in una città già ridotta al minimo storico di abitanti. I posti liberi al momento sono utilizzati dai turisti, cioè si pensa alla città e ai servizi di questa città solo in funzione dei turisti. In questi due anni avevamo ad esempio richiesto che quei posti liberi perissero assegnati ai veneziani con delle tariffe agevolate. È evidente che poi tutta la gestione di questa amministrazione, che va dalla residenza, che va dai trasporti, che va a tutta una serie di servizi, è legata solamente all'ottica turistica.